Sarà un Natale più triste nella comunità di Montevergine dopo il furto dei ex voto, ma non poteva mancare la benedizione di mamma schiavona. Brindisi di Natale all'abbazia del Loreto con l'abbate Riccardo Luca Guariglia e le autorità. Guariglia ha rivolto un nuovo appello ai ladri. Se si tratta di persone indigenti, siamo disposti anche ad andargli incontro. Non ci interessa chi è stato, anzi, ripeto, siamo pronti ad accogliere anche le varie richieste, se sono nella necessità o altro. Però toccare gli ori che i pellegrini hanno donato con tanto affetto e anche con tanto sacrificio, questa è una cosa che ha fatto un poco scuotere le coscienze di tutti noi. Tantissima la solidarietà ricevuta per il furto sacrilego, anche d'oltreoceano. Dall'Argentina, dall'Australia, dall'America. E loro ci hanno dimostrato la solidarietà e poi anche la disponibilità nel combiere qualche atto. E Guariglia ci tiene a tranquillizzare la comunità. Il diadema della Madonna è al sicuro. Sta diventando una soppopera oppure un giallo questa questione del diadema della Madonna. Il diadema della Madonna non è a Montevergine. È in un posto sicuro come lo è uno stensorio di oro di 8 chili e come lo è i calici fatti sempre dalla fusione degli ex voto della Madonna che si trovano in un altro posto.